Ragedia sul lavoro questa mattina nelle campagne di Barletta, dove un agricoltore di 64 anni, Michele Di Vittorio, ha perso la vita in un incidente avvenuto a poche centinaia di metri dal parco archeologico di Canne della Battaglia. Secondo una primissima ricostruzione, l'uomo stava cercando di superare a bordo del suo trattore un ponte posto al di sotto del manto stradale, rimanendo schiacciato durante la manovra. La tragedia è avvenuta in una stradina interpoderale della Provinciale 3, circa 200 metri prima di un passaggio a livello, non lontano dal confine con i territori comunali di Canosa di Puglia e San Ferdinando. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando di Barletta, i vigili del fuoco e gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bracciante. Le forze dell'ordine hanno invece allertato l'autorità giudiziaria.